Assessore Marcellini, era quello che forse temevamo un po' tutti riguardo al dissesto ideologico e soprattutto riguardo a Ripeti Civitea? Purtroppo sì, purtroppo con oltre due metri e mezzo di neve, poi stanotte è stata una notte incredibile per quanta pioggia è caduta giù, si è ripresentata tutta la situazione del 2015 in tutta la sua drammaticità, quindi con una strada che stiamo cercando comunque di tenere aperta faticosamente per consentire comunque alla frazione Ripeti e quantomeno l'arrivo dei mezzi di soccorso. Ci sono comunque ancora famiglie che abitano qua, qual è la situazione per loro e che cosa si sta pensando? Allora, proprio in questo momento c'è la protezione civile con il nostro presidente Gennarino Di Lorenzo che sta facendo un censimento delle famiglie presenti al di là della frana e sta raccogliendo anche un pochettino quelle che sono le esigenze. In questo momento non sta piovendo ma nel caso in cui la precipitazione fosse più consistente e si rimettesse a piovere c'è un timore che la situazione possa peggiorare addirittura oltre quella che era la situazione del 2015? Allora, abbiamo fatto adesso un briefing col geologo marziale che ha già fatto il sopralluogo sopra. Diciamo che per il momento si sta muovendo una massa di circa 3.000 metri cubi, diciamo superficiale e sotto c'è l'acqua che corre. Diciamo che al momento sembra che la situazione può essere sotto controllo, cioè per quanto riguarda la parte alta della frana. Ovviamente va monitorata veramente a vista, non neanche ad oras ma ad minutas, proprio perché bisogna assolutamente verificare momento per momento questa evoluzione. Diciamo che al momento la parte sopra, ripeto, il geologo ci dice che è un movimento abbastanza parziale, però non è escluso che riparta tutta quanta la situazione superiore, nella parte alta di Ripa. Com'è la situazione per quello che riguarda la sistemazione di questa zona? È una storia italiana, purtroppo. I fondi sono stati stanziati e la consegna dei lavori è stata fatta il 29 novembre. 29 novembre con due ditte, una per il lotto superiore, l'altra che doveva operare qui sotto, proprio nella zona dove adesso ci troviamo per realizzare appunto questo grosso ponte che permettesse lo scolo. L'Italia, fra le progettazioni, fra il rimpallo, il genio civile sta gestendo questa cosa, lo voglio dire a tutti, non lo gestisce il comune di Civitella in prima persona, ma direttamente il genio civile. In Italia non possiamo più permetterci questi ritardi. Se l'emergenza è emergenza, bisogna anche avere il coraggio di andare in deroga a tutte quante le procedure, perché poi a soffrirne è la gente che sta qui dentro.